Ciao a tutti, sono Francesco Berini e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a parlare di camini. Camini di Mark VI, camini di un Mark VI piuttosto anzianotto, classe 1956, quindi un 5-digit. Sappiamo che la matricola la possiamo leggere qua sotto, no? Ecco, come lo possiamo vedere anche dal fusto, è uno strumento che ne ha viste parecchie. E qualche collega, dicevo, chiamiamolo collega per modo di dire, ha un pochino ecceduto nella limatura di alcuni camini. Cosa vuol dire andare a limare i camini? Allora sappiamo che i camini, vabbè, sono ovviamente questi, sono i fori sui quali poi il tampone andrà ad appoggiare. Per, diciamo così, semplicità di lavoro del tampone, devono essere il più possibile paralleli al tampone stesso, al piattello, e quindi poi di conseguenza al tampone, che è semplicemente una guarnizione che andrà a tappare il foro. Più, chiaramente, sono rettilinei o sono addirittura stati rettificati, più il tampone riuscirà ad aderire con semplicità, distribuendo equamente la forza su tutto il diametro del foro. E quindi, quando lo strumento si storge, prende colpi, o anche semplicemente il normale utilizzo dello strumento, appoggiamola a custodia, magari con le custodie un po' vecchie che non assorbono bene l'urto, anche minimi urti possono piegare il fusto, bananizzandolo, diciamo così, un pochino, e di conseguenza i caminetti andranno a ovalizzarsi e a cambiare la loro forma. Quando fai un restauro, quindi, bisogna curare il fusto in maniera da raddrizzarlo, per così dire, e andare a lavorare anche i camini, lavorarli un pochino internamente, lavorarli anche con l'ausilio, appunto, di alcune frese. Chiaramente la fresa va utilizzata con grandissimo criterio, perché andiamo ad asportare del materiale che non sarà più possibile andare a rimettere. Mi concentro in particolare sui cammini della parte alta dello strumento, ok? Diciamo che i vecchi Mark VI hanno già dei cammini piuttosto bassi, per cui di ciccia da togliere non è che ce ne sia moltissimo. Qui abbiamo un 130.000 con i cammini originali, come vedete, a parte essere un po' storto, come si può vedere dal video, non sono molto alti, non è che possiamo andare a togliere moltissimo, no? Però, insomma, come possiamo vedere, comunque il cammino in questo caso c'è. Cosa diversa è nel Mark VI di cui stavamo, stiamo parlando adesso, appunto, questo 5-digit. Possiamo vedere che nel fa acuto, questo qua è un fa acuto, ok? Sì, sembra, è strano, ma da smontato, vi assicuro che è un fa acuto. Quindi parliamo, siamo nella parte delle meccaniche laterali e poi possiamo vedere, praticamente, il cammino è scomparso nelle zone di contatto con il fusto, in maniera, sul lato della parte lunga del fusto. Similmente era stato fatto anche in questo foro qua. L'intervento, in questo caso, che bisogna andare a fare è l'aggiunta dell'anello. Vedete, io ho tornito un anello ad hoc, ovviamente, e ho fatto una saldatura per andare poi, appunto, a ripristinare un'altezza, prendendo a misura, più o meno, quello che sono le altezze dei cammini dell'epoca. Quindi, comunque, è utile avere, in questo caso, un database, in cui, anche un album fotografici, possono essere, appunto, molto d'aiuto per noi tecnici, in cui andiamo a vedere, più o meno, quanto è circa l'altezza del cammino. Perché, come ben sappiamo, determina, parzialmente, determina l'intonazione della nota. Lavoro simile, quindi, andrà fatto nel facuto, quindi una saldatura che deve essere il più possibile precisa e pulita. Come potete vedere, comunque, l'anello è, in ogni caso, parzialmente visibile. Ecco, la stessa cosa andrà fatta qua. Ed ecco qui, tutto è pronto per effettuare la saldatura. L'anellino viene fissato con una clampa e dobbiamo soltanto andare a fare quella che, in realtà, è una brasatura in cui apporteremo del materiale. Questo passaggio non lo farò filmato, in quanto ci sono qualche trucchetto del mestiere che voglio mantenere in anonimo. A breve vedremo, poi, il risultato finito dell'operazione di ricostruzione del camminetto del facuto di questo Mark VI Five Digit. Eccolo qui, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Possiamo dire che il riporto è avvenuto con successo. Ora, la saldatura è stata fatta, bisognerà andare a pulire un attimo i punti in cui la stessa è un pochino sbavata. Ovviamente, se c'è un po' un lavoro di pulitura della stessa. L'importante è che ci sia una tenuta meccanica, della saldatura che sia, appunto, totalmente solidale al corpo. E che, chiaramente, sia tenuta stagna, perché, naturalmente, come non deve uscire aria dal perimetro del tampone, men che meno deve uscire da quella del cammino. Ecco, un lavoro simile è stato operato anche nel cammino del Miyakuto, che aveva, ovviamente, anch'esso incontrato le mani di questo temerario riparatore armato di fresa. Ora andiamo a pulire la saldatura, in maniera da dargli anche un aspetto esteticamente all'altezza dello strumento di cui ormai fa parte. Ecco il risultato finito. La saldatura è stata pulita e lucidata, l'anellino aderisce perfettamente al foro e lo strumento può tornare a suonare dell'ottima musica. Quindi abbiamo di nuovo il nostro spessore e il tampone potrà aderire tranquillamente al cammino, come se, appunto, nessuno fosse mai intervenuto per modificarne l'altezza. Grazie per avermi seguito. Alla prossima. Ciao, ciao!